...e Pellia, terza vittoria consecutiva, una vittoria anche rotonda, partita praticamente facile ma era importante prendere una coltiera di giusto. Sì, i ragazzi hanno giocato fino alla fine, concentrati, hanno giocato bene e ci fa ben sperare anche nelle prossime gare che faremo. Morro d'Oro, Civitanova contro il Campobasso. Adesso si va domenica dopo domenica perché le squadre sono tutte là nel giro di tre punti e per noi è importante portare a casa sempre i risultati. Adesso andiamo a Morro d'Oro e pensiamo a Morro d'Oro, poi domenica dopo domenica, non si può pensare. Poi guardiamo quello che fanno le altre. Sì, un campionato sempre più equilibrato, quindi a otto partite dalla fine ci sono quattro squadre in tre punti ogni partita nella finale. Sì, adesso in poi, ma si sapeva, avevamo sempre detto, che a marzo si vedeva come doveva andare il campionale. Noi, dalla nostra forza sappiamo che abbiamo più cartucce perché abbiamo fatto degli acquisti a dicembre e quindi che dovranno dare quell'apporto che poi servirà per poter vincere il campionale. Grazie.